Un piccolo universo fatto di tanti mondi differenti, volti, esperienze, sensibilità diverse e proprio per questo dinamico stimolo all'interno della Chiesa di Padova per un cammino nuovo nel nome di un'unità nuova. Parte da queste premesse la visita pastorale che vedrà impegnato il Vescovo Monsignor Antonio Mattiazzo fino all'Epifania. Un viaggio all'interno della Chiesa che si fa comunità sempre più accogliente. Credo che non possiamo neanche affrontare gli anni che ci stanno davanti e quindi lo sguardo si proietta verso il futuro se non prendendo coscienza e lasciandoci arricchire e stimolare da questi fratelli e le sorelle. Le nostre comunità non saranno un grembo come recita il titolo del piano pastorale di quest'anno, un grembo che genera la fede se non fossero aperte ad accogliere e in dialogo, in interazione con questi fratelli e sorelle di altre etnie. Sono in tutto 13 le comunità etniche attive in diocesi. Con loro, da molti anni, la pastorale dei migranti lavora nel nome di una Chiesa che ha fatto dell'accoglienza un valore messo in pratica quotidianamente e che dall'umanità e dal profondo senso della fede dei fratelli cristiani di altri paesi e di altri continenti trae ogni giorno lo spunto per arricchirsi nel profondo. Insieme in realtà l'obiettivo della Chiesa è essere missionari perché la Chiesa non è da sola, siamo sempre insieme. La comunione è importante per vivere la vita cristiana. Vivere questa esperienza nuova per noi, essere arrivati qua in Italia a una nuova terra, però compartire con tutti la nostra fede, il nostro pensiero, la nostra pace e portare la nostra cultura anche a voi e imparare di voi la cultura vostra. Il cammino intrapreso dal Vescovo Antonio potrà ora consolidare questo patto nel nome della fede e dell'amicizia tra popoli fratelli, con piccoli ma solidi passi all'interno di una comune avventura dello spirito. Che questo sia veramente un costruire, un includere, un camminare insieme, un guardare avanti nella stessa direzione, un sentirsi sotto lo sguardo di Dio, un sentirsi fratelli, un dialogare. Credo che sia veramente, però una cosa è certa, stiamo iniziando una strada.